Il giornalismo d'inchiesta è possibile, ma a quali condizioni? Noi siamo in collegamento con Giorgio Fornoni. Buona giornata a te. Buona giornata a voi e grazie per l'invito. Come hai preso queste dimissioni della Gavanelli? Conoscendola, non è che lei non sia sceso a compromessi, è che sicuramente è una persona di coerenza. E quindi questo l'ho potuto constatare da quando nel 99 mi dedicò a quella puntata e da allora mi chiese se volevo far parte del suo gruppo. Ecco, lei personalmente adesso era stata assunta, era stata assunta proprio per un certo tipo di lavoro, era vice direttore. Dopo che l'anno scorso aveva detto mi ritiro da Repor perché dopo 20 anni è giusto che io faccia questo e lasci un po' spazio anche agli altri. Perché seguire le puntate di Repor non è una cosa facilissima, è veramente molto dura e seguire tutte quelle puntate era un lavoro veramente forte e stressante. Lei comunque era stata assunta adesso per un determinato lavoro e dopo alcuni mesi, dopo che lei aveva messo in campo tutte le sue forze e le sue capacità e aveva tutto pronto, a un certo punto dicono no, di questo programma non se ne fa niente. Per coerenza, per coerenza. Esatto, e lei disse, perché l'incontro è saltuariamente, lei mi dice a un certo punto io non voglio stare lì a far su e giù per i corridoi rubando lo stipendo degli italiani. E quindi questa sua coerenza va bene che poi... Senti, senti Giorgio, perché non vorrei che poi adesso parliamo che Fornoni racconta la Gabanelli. In realtà domani mattina all'auditorium alle 10 sarà esattamente il contrario. Gabanelli che racconta Fornoni e dobbiamo semplicemente, abbiamo proprio un minuto per raccontare questo incontro che è diventato poi l'occasione per fare nuove produzioni e nuove avventure di Giorgio Fornoni. Sì, quello d'accordo, però io preferisco parlare della Gabanelli che parlare di me, perché parlare di se stessi non è una cosa facile. Comunque, nel 99 lei mi mandò a chiamare, seppe che avevo del materiale esclusivo sulla guerra, sulla prima linea dell'Eritrea e dell'Etiopia, dove c'erano centinaia di soldati così morti lì al sole, insepolti, c'era questo odore di morte e tutta questa roba, lei seppe di questa cosa e mi mandò a chiamare e mi disse oltre a questo materiale che non mi regge la serata, che cos'hai? Ora gli mostrai un po' alcuni lavori fatti, tipo quello dell'Afghanistan, dove stiamo vedendo appunto, dove ero entrato, dove c'erano i talebani, ecco qui talebani in prima linea al fronte, quindi era una cosa non sicuramente facile questa, avevo incontrato anche Massù dei tempi e così via, sapendo di questo materiale e di queste cose mi dedicò nel 99 una puntata e da allora mi chiese, ma perché non voglio essere dei nostri? Io dico, sarebbe troppo per me, però se tu mi lasci lavorare sui temi che a me piacciono, quindi questo concetto del, diciamo un po' la passione per l'uomo, avevo grosso desiderio sempre di viaggiare, però la fortuna di avere tanti missionari vicini e amici per il mondo mi davano l'opportunità di arrivare nei luoghi della sofferenza, voi sapete perfettamente che loro vivono proprio nelle periferie del mondo, dove ci sono le guerre, i disastri ambientali, dove ci sono appunto questi profughi, quindi per me è stata una cosa importante da allora, ho cercato di non mettere la testa sotto il cuscino. Perfetto Giorgio, io vorrei parlare con te davvero tantissimo, purtroppo il telegiornale sai a tempi veramente brevissimi, era semplicemente appunto per averti con piacere, nostro ospite e per ricordare l'appuntamento di domani appunto alle 10, c'è l'auditorio di Piazza della Libertà questo omaggio che molte fedi fa a Giorgio Fornone attraverso l'incontro con Milena Gabanelli. Grazie, grazie a Giorgio Fornone.